Alla Berlinale 2023 è stata presentata la stampa, la giuria internazionale che ancora una volta deciderà chi si porterà a casa l'orso d'oro e l'orso d'argento. La giuria della Berlinale vanterà oltre alla presidente Kristen Stewart, grandi personalità internazionali dello spettacolo con la star di Hollywood ci sarà l'iraniana Ghoshifte Farhani, già vista al cinema in e bautelli di Asgard Farhani ed Exodus dei re di Ridley Scott. Fra i giudici ci sarà poi Valeska Grisebach, regista tedesca vincitrice del Torino Film Festival con Be My Star nel 2001. Nel team anche il rumeno Radu Jude, già vincitore a Berlino dell'orso d'argento con il suo Aferim sette anni fa e la cineasta spagnola Carla Simon che quest'anno ha partecipato a Venezia con Letter to My, Mother for My Son. Presenti poi il regista di Hong Kong Johnny Tu e Frankie Meisler fra le direttrici del casting più famose di Hollywood. Nel suo palmares vanta un Emmy e due nomination ai BAFTA.